Il cronoprologo di Costa di Mezzate si chiude parlando straniero. Primo Polonia, Russia, Australia, Olanda e il primo bresciano e sesto Francesco Sedaboni. E' stato vinto da Tomasiak, a seguire Tatarinov, Kirby, Phelan e Kelderman. Sesto, come abbiamo detto, Sedaboni. Abbiamo il vincitore qui con noi, il suo direttore sportivo ci farà un po' da interprete. Veste la maglia di leader Navadriano, ma poi quella a punti e quella degli stranieri. Alla tre giorni orobica, con questo prologo già vincitori, per? Lui oggi ha vinto, ma domani penso che è anche una buona etapa per lui. E penso anche a domenica. Lui fa buone corse per il cronometro e per la pianura. Vogliamo fare qua una buona prova per i campionati mondiali. Cavaliero Gino Santini veste le maglie dei campioni. E una maglia qui ci voleva la tre giorni orobica, questa manifestazione internazionale. Sì, noi abbiamo sponsorizzato la maglia per gli stranieri e devo dire che non c'era che fare la scelta, perché i primi cinque sono tutti stranieri. Comunque, devo dire che il vincitore è stato veramente bravo, ha stabilito un tempo eccezionale. Ha dimostrato di avere delle qualità non indifferenti. Sarà un osso duro anche per il proseguo della manifestazione. E chi veste le maglie Santini non può che diventare un grande campione? Beh, noi lo auguriamo tutti quelli che vestono le nostre maglie. È chiaro che non lo potranno essere tutti, però è evidente che un atleta del livello del corridore polacco che ha vinto oggi sicuramente può avere un futuro molto importante. Giovanni Maffei si è rappresentanza della famiglia che oggi si organizzava il Memorial Maria Assunta ai Giovanni Maffei, nonché Letizia e Arturo Belotti. Ricordate con parole molto significative. Prendiamoli per mano è il nostro slogan per ricordare con una corsa coloro che ci hanno preceduto, lasciando dietro a sé tesori inestimabili di saggezza. Parole veramente emblematiche? Sì, sono parole che ti danno anche un po' di emozione. Sono un indegno rappresentante della famiglia Maffei Sebelotti, quindi sono anche onorato di questa fortuna di essere qui tra voi. Siamo contenti perché il tempo veramente quest'anno ci ha aiutato, perché sinceramente l'ansia era quella. Onore e complimenti al vincitore. Avere qua dei corridori stranieri in terra bergamasca, qui a Costa di Mezzata ci ha fatto molto piacere. Ringrazio Patrizio Lussana per la loro presenza, Antonio Torri, Cavalier Santini per la sua importanza di essere qui con noi. Vi ringrazio tutti e mi auguro che i prossimi giorni possano portare a domenica un vero importante vincitore. Grazie. Framar, Industria del Pulito. La Framar, grazie anche a Framar, è un'azienda di servizio, un'azienda che l'anno prossimo festeggerà i quarant'anni, quindi grazie a questa grande famiglia, perché comunque è una famiglia che ci aiuta e ci conduce per il futuro e sarà molto importante proseguire, grazie anche a questa realtà. Un grande staff di collaboratori, Amedeo Rubbi, anche quest'anno è andata in porto la decima edizione e una decima edizione con tanto di rispetto. Sì, nel tempo siamo cresciuti, lo sta a dimostrare il fatto che siamo di tanti internazionali, la presenza di ben 14 nazioni che hanno scelto Bergamo e la nostra corsa in preparazione al mondiale e quindi siamo veramente onorati di tutto ciò. Può essere la vostra mascota a portare fortuna, questa bellissima tartarughina? Speriamo, è stata un'idea lanciata da noi dell'organizzazione, che qualche scuola ha ricepito in maniera, credo, giusta e colui che ha vinto con quel genio lì è stato veramente bravo. L'organizzazione è partita, tutto collaudato, adesso? Adesso viene il bello, però diciamo una volta rotto il ghiaccio poi dovrebbe essere un pochettino tutto più in discesa. Patrizio Lussana, direttore di organizzazione, Kona, Mologni e Trapletti, tre personaggi che dovranno portare tutta settimana questa manifestazione su percorsi non indifferenti. Sì, sicuramente domani andiamo sulle strade vere e proprie, anche se oggi eravamo comunque su una provinciale, però avevamo le strade chiuse e diciamo che si è controllata un po' da sola, abbiamo sicuramente dato un po' fastidio agli automobilisti, chiediamo scusa, da domani sicuramente cambia la musica, però come ha detto l'Amedeo prima, chi ben comincia è la metà dell'opera, oggi per fortuna rispetto all'anno scorso è andato via tutto bene e siamo all'inizio, aspettiamo poi domenica per trarre le devute conclusioni. Una preparazione per il mondiale, i vostri percorsi sono all'altezza? Credo proprio di sì, perché già da domani credo che la buca del corno a 6 km dall'arrivo, 7 km dall'arrivo è molto importante, è una salita molto dura e sicuramente domani l'arrivo il vincitore non sarà lontano neanche domenica nella classifica finale, quindi percorsi importanti adatti a questa categoria, non sono dei percorsi sicuramente con delle salite fuori da ogni logica, sono percorsi studiati a tavolino per questa categoria, quindi sicuramente chi uscirà dalla tre giorni aerobica potrebbe essere che nel mese di agosto in Russia sia anche magari il vincitore del mondiale. Dovremmo appuntamento dunque alla tappa di domani con Eterno d'Isola Zandobbio, seguiteci sulla nostra emittente.